Il Master in Intelligence dell'Università della Calabria si è ritagliato uno spazio importante nello scenario italiano. Nel corso delle varie edizioni ha attirato studenti provenienti dal resto d'Italia e anche dal resto del mondo ed ha ottenuto una serie di riconoscimenti in Italia all'estero. Quest'edizione si profila molto interessante, la scadenza dei termini è il 30 di ottobre, si può partecipare accedendo al sito dell'Università www.unical.it alla voce Master. Possono partecipare tutti coloro i quali hanno una laurea di 4 anni nel vecchio ordinamento, di 5 anni nel nuovo ordinamento e è conseguita in tutte le discipline perché dal nostro punto di vista l'intelligence è una materia che raccoglie più saperi e più competenze. Infatti una delle professioni maggiormente richieste al mondo attualmente nei prossimi anni è quella del data scientist, cioè dello scienziato dei dati, cioè di colui il quale sa utilizzare le informazioni, sa discernere le informazioni, sa individuare quelle rilevanti da quelle che non lo sono. Allora l'intelligence come strumento per tutti, per i cittadini in modo da sopravvivere nella società della disinformazione, per le imprese, per poter solcare i mari ventosi della globalizzazione e per gli stati per poter assicurare il benessere e la sicurezza nazionale. Allora il percorso che noi proponiamo per la settima edizione ha una grande valenza culturale perché dal nostro punto di vista l'intelligence è un investimento.